classe 2000 con il numero 2, Barone 2003, numero 3 adesso è servito Barone Gassamada Manfortel, numero 13, che deve convergere, deve sterziare si appoggia a Gelbi Barone dal Saint-Gélin, Belgio Gelbi ancora Barone per Cotto Barrafunde, addirittura può fare il poker torniamo al gioco con il numero 8, Nalda Ciumba Fergani dal mezzo Sciabonata lunga a cercare Barone entrata anche Chiusano Monfraseggio con Hoffe il numero 15 Giaccio il numero 7 in maglia verde, Odrien lancio in avanti equip si è avvicinata infatti la compagina bianco-verde al gol precisissimo il pallone arriva tra i piedi di nessuno da quella parte da quella parte che si è avvicinata la parte che si è avvicinata è avvicinata